L'istituto di Corniglio, Corniglio Parma, il sito è conforme ai requisiti minimi di accessibilità, si propone di fornire un buon archivio delle esperienze didattiche e delle buone pratiche maturate nel corso degli anni. Per ritiro al preno, Angelo Paganini, referente del progetto e Marco Pioli, dirigente scolastico. Allora, se mi mettete qui, vi girate col diploma, è in mezzo qui, così possiamo fare una foto. No, poi una parte dall'altra, io faccio il messo alle cerimonie.